benvenuto a una nuova puntata del GCN Italia risponde come ogni mese puntata canonica classica di risposte alle domande vostre questa è una domanda casuale abbiamo dato libertà nel farci qualsiasi tipo di domanda il prossimo GCN Italia risponde che sarà a inizio gennaio sarà sulle domande più imbarazzanti che volete rivolgere a me e Maranga mettetisi in difficoltà ovviamente nei limiti della decenza se no non possiamo rispondere poi siamo un po' vincolati però cercate di avere un po' di creatività un buon modo per iniziare il 2025 viene fuori sicuramente una puntata più divertente del solito iniziamo con le domande di questo dicembre Cristian di Tommaso riprovo a porre la domanda valori bassi di ematocrito emoglobina e globuli rossi sotto il limite ma non di molto influenzano negativamente la performance beh certo che si eh si eh si caro Cristian se consideri che il metodo dopante è più utilizzato nel spordiendo la manipolazione ematica attraverso ormoni o trasfusioni per aumentare questi tre parametri se tu li riduci ovviamente le prestazioni calano quindi non c'è molto altro da aggiungere però per spiegarli in maniera un po' brutta cioè perché è importante averlo perché per avere i muscoli più ossigenati cioè per avere più migliora trasporto di ossigeno e quindi si riesce a dare appunto più ossigeno ai muscoli quindi che potranno in questo modo bruciare più carboidrati e grassi in questo modo riusciano a produrre più energia e un po' di anni fa lo sapevano bene cioè quando si poteva usare cioè non veniva riscontrato i controlli l'epo anzi non trovandolo nei controlli avevano messo il limite di ematocrito che era un limite indiretto cioè non possiamo beccarvi però mettiamo un limite in modo non esagerato lo fate ma almeno non esagerate potete farlo ma fino a un certo punto che periodo incredibile quello del ciclismo quindi gli anni 90 andiamo avanti max cz com ciao ragazzi in estate ho cambiato bici sono passato da una top del 2017 a una top peraltro più pesante rispetto ad aprile e maggio pur essendo meno allenato curva di potenza migliamente più bassa riesco a tenere velocità più elevate nei tratti in piano e spesso migliori i tempi in salita sui 15 30 minuti davo il merito alla bici ma mi è venuto in mente che in estate ho iniziato a fare tre minuti di esercizi addominali quasi tutti i giorni possibile che sia dovuto a questo poco esercizio il miglioramento ho sempre toscolato i lavori sul core pensando fossero importanti solo per la mountain bike e meno su strada dovrò ricredermi ma io non credo guarda che secondo me un po di beneficio ce l'hai rinforzando comunque la parte centrale del corpo un insieme di cose un po la bici sicuramente più performante anche se pesa di più più fattori più fattori magari nel contempo è cambiata un po anche la biomeccanica della pedalata e quello può fare veramente tanto e poi sì il coro ovviamente ti aiuta a essere più stabile ma non fanno male per avere più stabilità però ho detto che fanno male o non fanno bene succedendo che per abbassare il tempo in salita allenare gli addominali non è la prima cosa che mi viene in mente diciamo quindi faccio fatica tra una correlazione diretta però non può esserci non c'è scritto di quanto è migliorato no queste salite no ma che per avere più che altro però sicuramente fa bene ma e non fa paul paul for for p quanto è utile introdurre la corsa nei propri allenamenti soprattutto per non fare tutto sui rulli per mancanza di tempo comunque gli amatori come me si allenano per tribulare meno in salita nelle uscite con gli amici diciamo perché si allena se non devi fare gare o altro per andare più forti divertissi di più rispondendo alla domanda allora è utile va fatto in modo graduale con metodo bisogna che magari se non si è mai corso fare delle lezioni per imparare a correre con la tecnica corretta per evitare di fare danni è un ottimo strumento per allenare la potenza aerobica perché permette di alzare rapidamente i battiti cardiaci si può fare anche quando c'è brutto tempo non c'è il rischio di cadere come in bicicletta si si esce con l'acqua o altro si può fare dei periodi più brevi massimizzando l'efficacia dell'allenamento ed è un qualcosa di alternativo al ciclismo comunque faremo un video approfondito su questo tema invitando un preparatore uno che fa gare di triathlon prepara ciclisti professionisti il titolo del video sarà perché dovresti essere un atleta ibrido quindi fare più disciplina anche per andare più forte in bicicletta in piumaranga avrà un coach della corsa a breve in un altro video in cui si cimenterà appunto nella corsa a piedi quindi una coach molto famosa molto conosciuta molto simpatica c'è dani e dani va bene due mz grandissimi allan e giorgio e giorgione prova a rifare questa domanda visto che non ha mai avuto una risposta fate bene che fine ha fatto la bici studiata da giorgione appositamente per la salita della pozza sang lisente è caro danni era per la scalupia malga palazzo la scalupia malga palazzo quando andiamo a farla la salita la bici è stata smontata fare tu tra l'altro perché si la devo fare io perché è stato un problema con logistico logistico diciamo così e quindi abbiamo dovuto smontarla quando riusciremo a rimettere insieme la cosa che non è rimettere insieme la bici che ci vuole meno ma non è un progetto abbandonato però no no è una cosa che per me è molto molto interessante è una cosa che ho voluto io ho spinto io quindi sono felicissimo di farla ma no ma anche quando fa freddo è meglio perché a quella velocità lì si fa meno fatica da freddo che col caldo c'è il ghiaccio ovvio non deve esserci il ghiaccio tanto che facciamo con un po di caldino poi diciamo che scenderà in macchina comunque non c'è il rischio poi di farla discesa tra l'altro è vietata perché è per il rischio della discesa quindi non fatela perché è vietata ai ciclisti noi la facciamo col permesso la faremo col permesso e con una macchina per scena tra l'altro in quel week in quel due giorni che fermeremo il video andremo a fare sicuramente che hanno un'altra seta che è vicina una seta impattata che è punta veleno si? eh sì amico mio faremo anche quella tanto che stanno lì non è proprio vicinissimo ma sì nel raggio di 40 minuti quello che è non è lontano si va bene facciamo tutto in due giorni io posso fare con la stessa bici? no 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 il il jolly ce l'è solo per posto sanglesente scanupia maga palazzo scanupia maga palazzo la roba lì eugenio adesso io istintetizzo i nomi degli account o eugenio penso che se la prenda anche perché li fai in automatico youtube quelli eugenio Alan e Giorgio grazie per i video e per la possibilità di farvi delle domande ne ripropongo una che avevo posto il mese scorso esiste una statistica dell'andamento del rapporto bat-chilo riferito allo stesso periodo di tempo ad esempio 5 minuti in atleti di passati dalle categorie giovanili al professionismo sono curioso di sapere se i pro già da piccoli evidenziavano doti fuori dal comune allora non ne sono a conoscenza se esiste una cosa di questo tipo sarebbe interessante si potrebbe direttamente chiedere ai professionisti che potenze facevano quando erano più giovani io c'ho un'idea andiamo ad alcuni preparatori no loro non possono dirlo ma sì dobbiamo andare direttamente eh no non possono dirlo bisogna andare direttamente alle corridore e chiedere a loro se possono dirci queste e no il preparatore no ma scusa il segreto professionale non può divirare i dati di chi allena il corridore però te lo può dire il corridore sì per quello di divinerare il corridore però vabbè se volete qualche numero vi dico i miei che non sono un granché io del livo primo anno ero andato a fare un test mappei avevo 325 watt di potenza solina aerobica per quello che pesava loro erano 4.3 secondo anno junior 375 watt 4.8 e da pro quando stavo bene avevo 420 watt di FTP per 5.1 quindi facevo una gran fatica e riuscivo a fare risultati essenzialmente perché mi nascondevo e facevo qualche sprint con questi valori non si va da nessuna parte non si va da nessuna parte si fa della fatica con 5.1 attualmente non sarei neanche riuscito a portare pro adesso si va molto più forte anche io da pro si più o meno sono lì forse pesavi un po' meno quindi pro chilo avevo qualche valore pesavo molto meno pesavo 74-75 io ero 80-82 quindi una gran faticaccia comunque interessante questa cosa di chiedere si potrebbe vedere come si evolvono chiediamo i pro in cui andiamo a chiedere però devono preparare assolutamente perché non è che mai si ricordano i numeri bisogna direbbe certo certo vabbè vabbè interessante Andrea ciao un'ora a 200 watt corrisponde a 250 250 watt corrisponde a 900 kg consumate quindi più o meno 900 calorie ma se per un professionista fare 250 watt potrebbe essere Z1 per un amatore potrebbe essere Z5 dunque a questo punto il dispegno calorico non dovrebbe essere superiore per il povero amatore con i battiti del cuore sulla luna? un cuore che batte molto di più non ha nessun effetto surale consumo calorico? questa è una domanda bellissima provo a rispondere in modo più chiaro possibile tu hai fatto un calcolo corretto 250 watt per un'ora corrisponde a 900 kg e questa è fisica non si scappa questa è matematica 900 kg di energia prodotta per poter tenere 250 watt per un'ora quello che poi tu dici dopo quindi più o meno 900 kg calorie in realtà questo dipende dalla persona cioè 900 kg è l'energia meccanica necessaria 900 kg calorie è l'energia metabolica per supportare questo sforzo la conversione tra kg calorie è più o meno un quarto quindi si deve fare quattro volte la fatica metabolica necessaria per fare una fatica fisica quindi il nostro organismo ha un'efficienza più o meno del 25% quello che cambia è che i professionisti hanno un'efficienza molto maggiore quindi faranno anche loro sempre 900 kg per fare 250 watt però bruceranno meno calorie rispetto ad un amatore che è meno efficiente e quindi consumerà più calorie e questa è la differenza essenzialmente quindi non è vero che viene comodo paragonare sempre 900 kg uguale a 900 kg calorie in realtà non è così questo cambia da persona a persona è proprio un valore importante è uno dei quattro pilastri della performance di endurance che è l'efficienza e quindi cambia da persona a persona Luca pappa lettera Luca lunga premessa pappa lettera è interessante Luca lunga premessa io e mio fratello siamo qua ah questo è quello che questo c'è un po' di paranoia Luca te lo dico già visto io e mio fratello siamo quasi gemelli atleticamente parlando con lo stesso passato sportivo io 37 anni 1,73-67 kg con V2 Max stimato Garmin intorno ai 60 lui 41 anni 4 anni in più quindi 1,73-63 kg V2 Max intorno ai 60 quindi più o meno simile allenamenti settimanali similari quando usciamo in bici lui salta se tiene a lungo frequenza cardiaca sopra i 155 battiti io ho margine di altri 15 12-15 battiti almeno il che si traduce per noi in una differenza di circa 3-4 km in pienura e 1-2 km in salita tale differenza non è a mio avviso giustificabile solamente dall'età a cosa può essere dovuto? fatto che non siete gemelli o mozigoti ma siete fratelli e anche nel caso di gemelli o mozigoti non è detto che le performance genetiche siano identiche posso dirlo a contatto? dillo può darsi che il tuo fratello abbia una cilindrata pochettino pochettino più grande nonostante no più piccola si vai più forte sì scusa un pochettino più piccola nonostante il video max che poi avete un video max uguale di 60 ma lui essendo più leggero vuol dire che a livello assoluto neanche meno quindi in pienura è normale che vada meno infatti in salita la differenza è minore perché avete lo stesso video max quindi il rapporto peso potenza simile anche se tu ce l'hai maggiore però il punto è che non siete uguali geneticamente e poi bisogna vedere se effettivamente i lavori che fate poi hanno lo stesso impatto su il vostro fisico sono troppe variabili i gemelli Yeats sono sono mozigoti o mozigoti mi sembra effettivamente sono molto simili sono entrambi professionisti a quel livello lì la differenza tra i due è minima se tu era molto piccola no se magari c'è uno che ha vinto più dell'altro però sì però non c'è il 5 km 4 km di differenza no però loro però sono gemelli gemelli veri sì 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 e infatti sono lì poi beh andiamo avanti Fabio D'Agosti come invece i tuoi fratelli erano Andy e Frank Schleck prestazioni molto diverse anche fisiotonicamente Frank andava meglio nel classico Andy più per le corse tappe sì comunque forti tutti e due forti e due ma diversi però Andy riusciva a fare top 3 Andy Grandisi a Tour de France sì 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 esatto un po' diverso ok giusto hai fatto un bel esempio Fabio D'Agostini ciao Alan e Giorgio io ho due bici una gravel e una da cross quella da cross in estate la uso come bici da corsa e d'inverno appunto da cross la messa in sella può essere uguale per entrambe le discipline sulla stessa bici tenendo conto che cambiano anche i pedali e scarpe grazie se non cambiassero pedali e scarpe ti direi anche di sì non devi andare a strovo cambiando pedale e scarpe invece no perché cambia il sistema aggancio pedale tacchette che può essere più alto più basso quindi cambia la terza sella così come può cambiare anche la terza della suola della scarpe quindi anche in quel caso cambia la terza sella quindi devi rivedere un pochino almeno la terza sella le altre cose puoi anche lasciarle così nel mondo ideale se tu alzi la sella devi alzare anche il manubrio per avere la stessa risilivello nel mondo reale bisogna vedere se è abbastanza spesso devo poterlo fare sì però più o meno siamo lì Morris Morris dico anche Sabba Morris Sabba mi piace Morris Sabba è leggibile è orecchiabile ci sono delle sillabe bello mi piace sono Morris ciao Morris uno scarso runner uno scarsissimo ciclista non esagerare non so che così sia vero con te stesso ho rilevato con fascia cardio-toracica che nella corsa ho una frequenza cardiaca massima di 182 e nel ciclismo arrivo a malapena a 170 siccome il cuore è sempre lo stesso vi chiedo devo migliorare il mio motore muscolare per raggiungere la stessa frequenza massima oppure devo accettare di avere due valori diversi con conseguenziali zone diversificate in base allo sport qualora riteniate corretta la prima ipotesi che gli allenamenti mi consigliate però scusa un attimo nella corsa è normale avere più battiti perché comunque muovi più muscoli questo è un fattore di stretti muscolari però la frequenza cardiaca massima comunque è quella se vai a tutta a piedi a tutta in bici devi raggiungere comunque teoria sì quando c'è una differenza così grossa può essere tutto il fatto che utilizzi meno muscoli ma in minima parte si parla di 1-2 battiti quando sono così tanti il problema è quasi sempre biomeccanico si torna sempre qui immaginatevi di prendere la bicicletta di un bambino e pedalarci sopra non riuscirete mai arrivare alla frequenza cardiaca massima perché ci saranno i muscoli che bruciano talmente tanto prima di riuscire a arrivare è un limitatore a mettere in crisi il sistema metabolico quindi cuore respirazione prima di mandare in crisi cuore e respirazione i muscoli saranno completamente a pezzi quindi probabilmente se su male in sella scoppi prima scoppi prima muscolarmente cioè i muscoli bruciano talmente tanto che non riesci a spingere il cuore fin dove può arrivare quindi questo è il limite potrebbe esserci questo problema molto probabilmente sì penso che sia la cosa più più fai altri motivi altro motivo potrebbe essere sì però in realtà la corsa comunque utilizzi gli stessi muscoli cioè non è vero che correre a piedi utilizzi i muscoli verso il ciclismo sono gli stessi muscoli solo che nella corsa si usano anche i modi centri come il muscolo è lo stesso si utilizza un po' più gastrocnemi un po' meno gluteo però i muscoli sono gli stessi quindi sono comunque allenati possono arrivare a portarti con la frequenza lì probabilmente li usi con angoli sbagliati che non ti permettono di spingere abbastanza fai il controllo sulla biomeccanica Morris e poi non essere così severo con te stesso dai scarso run no dai Lucas Lucas ciao mi chiamo Luca Ricca ho 15 anni e sono un vostro fan un vostro grande sostenitore oltre che un piccolo tigli atleta in progress volevo proporvi una sfida aia vicino a casa mia a Boves Boves in provincia di Cuneo c'è la famigerata salita del pilone del moro che come nome suona un po' il pilone del moro cosa ridi? no sembra una cosa impegnativa sembra una dupissi insieme no no pilone del moro sembra una roba dura insomma dura ed è difficile impegnativa fatta anche in una tappa del giro d'italia di anni fa in cui i velocisti sono stati spinti a salire su dal pubblico vedi è dura anche per i pro è una salita di circa 4 km con pendenza massima del 21% e pendenza media del 9 gli ultimi 2,5 km sale di 300 metri porca miseria potreste farci una puntata del vostro programma ma perché no pilone del moro dietro casa e se volete siete invitati a pranzo dai miei genitori attenzione però potremmo puntare il pranzo a casa di genitori di Luca ma sai cosa se dovessimo in futuro andare a intervistare qualcuno a Monte Carlo potrebbe essere l'occasione di fare qualcosa a Cune e poi facciamo Limone Piemonte e scendiamo perché per andare fino a Cune solo per andarci è un po' è un po' lontano è un po' fuori da te è proprio scomodo sono stato recentemente è un po' lontano io soprattutto per andare là per fare il pilone del moro il pilone del moro duro eh Giovanni Giovanni scanferla sono un ciclista amatore durante la settimana mi alleno sui rulli per questioni di tempo per fare rulli ho una bici meno abbiente una taglia più grande sulla quale ho adattato all'incirca le mie misure ma con una guarnitura molto scrausa questo perché ho paura di rovinare la guarnitura e il movimento centrale della bici più preziosa che invece tengo per uscite del weekend e qualche gran fondo è un ragionamento giusto o sono io che dovrei farmi meno paranoia per ottimizzare anche gli allenamenti durante la settimana ma fai bene se hai due bici fai bene usarne uno come un letto sul rullo a sto punto se la trasmissione fa schifo prova a pensare di passare al sistema il cog di swift praticamente ti hanno un unico rapporto dietro e usi il cambio virtuale per utilizzare swift quello è veramente comodo diventa silenzioso non hai più bisogno di cambiare fisicamente il rapporto ma lo cambi virtualmente con il trainer però è un ragionamento giusto ci sta una bicicletta ci sta cesarone cesarone cosa dice che allenamenti si possono fare avendo solo la frequenza cardia come sensore per allenare il vo2 max e gli allenamenti vo2 portano benefici anche nelle zone più basse devo rispondere lunga qua allora essenzialmente tutti i lavori massimali sub massimali che durano da 2 a 7 minuti essenzialmente allenano massimo consumo d'ossigeno da 3 a 7 minuti quindi se fai delle ripetute da 3 a 7 minuti sub massimali massimali anche senza guardare niente essenzialmente stai allenando il vo2 max porta benefici anche nelle zone più basse decisamente porta benefici anche nell'aumento dell'ftp quindi la potenza che puoi sostenere per tanto tempo anche se è una legge comunque tu la esprimi una potenza e ci sono stati degli studi che hanno visto che effettivamente lavorare su intervalli più brevi ripetuti più spesso funziona meglio che intervalli più lunghi quindi rimane ripetute da 20 minuti ripetute meno spesso quindi essenzialmente si può fare poi di quanto migliora dipende da la maria di cose non puoi sapere allora ci scrive un bimbo 12 anni Francesco ciao Arano e Giorgio sono un bambino di 11 anni volevo chiedervi secondo voi ora a questa età è meglio fare solo pianura o anche salite corte magari 2-3 km al 5-6% di pendenza quello che ti piace fare si ogni tanto si può mettere nel giro una salitellina però che non diventi l'abitudine se non è che ogni uscita ha 11 anni io la mia prima salita l'ho fatta a 12 per dire che esordiente 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 primo anno che ci si va su strada e si andava a fare la prima salita esordiente primo anno e quindi anche la prima discesa prima discesa prima di avere il motorino il senso di velocità lì è bellissimo la mia prima salita fu il Monticino salita che abbiamo fatto anche quest'anno da 400 km fu un'emozione unica la mia prima salita la mia prima salita la mia prima discesa una conquista avevo 12 anni fino ai G6 che è la categoria che va sì 11-12 prima la categoria di Francesco non erano addirittura vietate non ci dicono di non farle vietato no 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 tutta la cosa non è così drastica se stiamo parlando di 2 km al 5% se hai voglia di farla non è che qualcuno te lo deve dire se tu hai voglia di farla ci sono genitori che portano i bimbi di 8 anni anche a fare lo stelvio io 2 anni fa all'avvento di GCN c'era un tizio che aveva portato un bimbo di 8 anni 8-9 ha fatto tutto il Grossglockner 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 sì magari ti staccava anche te Giorgio sì ma ho visto qualcosa sì però mi ha messo un po' troppo è che la fai una volta all'anno spero che una volta all'anno puoi anche fare però Francesco non aver fretta stare tranquillo se capita una salitella una volta ogni tanto ci sta dai ci sta GP on the road ciao a tutti ho una domanda sto usando da poco il rullo un Tax Neo 2 con la mia mountain bike ma è normale che nonostante sia abituato a stare in sella in strada sul rullo dopo un'ora inizia a farmi male il culo e dopo due ore debba prepararmi a scendere due ore di rullo due ore di parte a scendere secondo me è anche sana come cosa due ore di rullo vorrei fare anche di più sarà per la poca mobilità della bici rispetto a quando si pedala in strada o sterrato ovviamente con pantaloni e fondello di qualità e sella apposita comunque io mi rendo conto che quando faccio rulli ho più fastidio è così per tutti ci sono due motivi il primo è quello e anche il fatto che ti alzi meno spesso sui pedali sei molto più statico sei piantato seconda cosa nel tuo caso il neo 2t non può regolare la parte posteriore in altezza del rullo e davanti hai un supporto per la ruota anteriore quel supporto lì è calibrato per una bici da corsa se tu monti la tua mountain bike con la ruota davanti da mountain con la gomma alta su quel supporto di pedali come se fossi in salita e questo aumenta la pressione sulla sella e quindi potrebbe darti più fastidio e alzare anche la punta della sella quindi dovresti pedalare senza il supporto anteriore e controllare che una volta salito sopra con la sospensione che scende un pochino misurare l'altezza dell'asse anteriore rispetto all'asse posteriore dovrebbero essere in pari se non sono in pari metti qualche spessorino di cartone o qualcosa per riuscire a rimetterle in bolla una volta che sono in bolla il problema è solo il fatto che sei sempre troppo seduto però per questo c'è due ore di mountain bike nei sentieri che fai un po' di sei sempre comunque in movimento ti hazi il suo non stai mai veramente seduto infatti c'è una differenza enorme sì mountain essenzialmente o stai in punta di serra che stai spingendo in salita ripida o sei in discesa stai sui pedali non se ne fa tante di pianura la pianura diciamo che è la cosa più fastidiosa per l'appoggio sella io comunque non facendone tanta devi fare due ore di rulli sì e poi fai una visita biomeccanica come si deve che ti avrebbero spiegato queste cose del rullo sicuramente però due ore sono tante Giorgio tu non hai mai fatto due ore di rulli sì ma perché mi pagavano anch'io no l'ho fatta qua con GCN eh sì nel video di Ruvi ti capi ho fatto tre salite epiche in un giorno tu mi guardavi hai fatto anche l'Uber Prezel di Swift roba roba Matteo Matteo Bazzaro ciao l'Anel Giorgio ho una domanda di carattere puramente meccanico possiedo una Giant TCR di media gamma con telaio e ruote ad alto profilo 5 cent... come 500 ah sì 5 centimetri in carbone 50 50 ho acquistato un portavici da tetto di dischetta fattura che come la maggior parte è composto da un binario in alluminio al quale la bici viene vincolata con una morsa che blocca il tubo oblicuo e due fascette in plastica rivestite in gomma per il fissaggio delle ruote sull'apposita guida in plastica ci ho già fatto lunghe tratte anche in autostrada trasportando però bici interamente in alluminio arrivate perfettamente a destinazione senza minimo movimento ma ho ancora molte remore sul carbonio dal momento che non ho modo di verificare il serraggio della morsa delle fascette mi sto facendo troppe paranoie o effettivamente è meglio che continui a caricare la bici in carbonio in auto abbattendo i sedi posteriori questa è una parte del sicuro allora il tubo oblicuo è molto sottile come laminazione ci sono di solito i portabici di questo tipo che usano anche sulle ammiraglie bloccano tutto il piantone che invece è molto più solido come tubo e non rischia di rompersi l'oblicuo attenzione perché è delicato mentre non c'è problema per le fascette sui cerchi anche i costruttori te lo dicono l'oblicuo e l'orizzontale sono molto sottili come laminazione il piantone invece è più spesso quindi se devi agganciare un qualcosa o reggisello o piantone dal stesso tempo però si vedono comunque biciclette che girano così alcune ammiraglie hanno la presa sull'oblicuo e le biciclette non si rompono quindi io non te lo garantisco però non voglio dire tu mi hai detto però non va bene e poi si spacca la bici vabbè stavo a parte sicura mentre dentro la macchina sono tutti tranquilli capito cioè si vede che non hai figli però andare in vacanza con due bambini le valigie anche se non ho figli comunque sì sì lo spazio è quello quindi o ti fai un bel furgone l'unica comunque stavo guardando in chiusura il pilone del moro è un'escursione che si può fare anche come dice il pilone del moro la cappella la cappella del montasso sul pilone del moro sì c'è la cappella del montasso comunque io non lo so questo pilone del moro ragazzi non avete bisogna andare a farlo bisogna andare a farlo deve essere non facciamo propositi per il 2025 non diciamo cosa vogliamo fare no vabbè si potrebbe provare comunque ragazzi siamo in chiusura stavo a tutto lungare il bronco il pilone del moro vabbè visto che siamo in tema di piloni e cose varie domande più imbarazzanti per il prossimo gesto in Italia risponde che sarà il primo del 2025 partiamo subito col botto così sicuramente ci sarà con una domanda sul pilone del moro sicuro guarda sicuro al 100% se il video vi è piaciuto ricordiamo di mettere like e commentare non ci resta che dirvi alla prossima puntata ciao domande imbarazzanti pilone del moro